Perché, diciamo così, ho visto sciupato un gesto che era stato quello di permettere questa celebrazione, molto importante, molto simbolico, molto bello, in un momento anche difficile come quello attuale, nel rapporto di l'idea e cristianesimo. Quindi intanto sono ferito perché ho visto andare in fumo un gesto che ho fatto con grande convinzione, con cuore, volentieri, ecco, proprio per manifestare questa vicinanza profonda. Quindi la ferita innanzitutto è questa, ecco, di vedere sciupato un gesto così. In secondo luogo, se davvero verificherò che è accaduta anche la seconda cosa, è un'ulteriore ferita. Dobbiamo ancora mettere il dito nella piaga perché allora questo mi dispiace, nel senso che vuol dire che bisogna andare a scuola di buon senso.